buon pomeriggio amici partiamo subito eccoli qua i regali allora avuto proprio oggi questo portafoglio ed è uno poi le carte di super mario bros di uno poi no il portachiavi tutto ma questa parte del portachiavi dove ci sono i tasti della playstation beh con i regali quindi al momento sono questi comunque partiamo ieri giornata bellissima ho preso un po più di tempo ieri mattina poi tutto sistemato rimbrescato la prima parte bella della giornata il ritrovo con i miei amici il pranzo conviviale e adesso voglio fare un promo pubblicitario se non sapete in quale ristorante giapponese andare a trani beh uno ve lo posso assicurare ed è toio in piazza trieste vicino alla cattedrale ragazzi si mangia benissimo ovviamente si paga in base a quello che si mangia antipasti primi non sai che ci sono i secondi dolci quindi toio un nome ed una garanzia grandi lavoratori professionisti ciao amici di toio quindi pranzo molto bene poi anche un dopo l'infresco in un bar con una bella granita e poi il momento conclusivo del diciamo della giornata del compleanno mio che ho assistito alla messa all'esterno a san giovanni la messa di sant'anni perché ieri oltre il mio compleanno c'era anche la devozione di sant'anni ringrazio l'invito fattomi da donatella grazie mille è stata una messa bellissima la presenza di monsignor arcivescovo leonardo d'ascenso nostro caro pastore della diocesi messa che ho vissuto molto bene ed inoltre voglio ringraziare tutti voi che mi hanno scritto sul mio diario facebook e che hanno commentato con i ringraziamenti al mio post su facebook di ieri vi ringrazio tantissimo per chi mi conosce da tantissimo tempo sin da piccolino chi mi conosce da poco ma anche chi non mi conosce di persona compleanno davvero speciale questo per me ma credo per chiunque abbia festeggiato stia festeggiando in questi periodi visto che ci stiamo tirando fuori da una situazione che sicuramente non è delle più semplici del covid sperando che a settembre non abbiamo una ricaduta per questo dico abbiamo la speranza perché l'ultima soccompere quindi di nuovo grazie a tutti i dei stati fantastici straordinari ho detto appunto se volete mangiare bene cucina giapponese andate da torio in piazza trieste un locale fantastico persone professioniste dal punto di vista umano e lavorativo cibo di qualità tutto dagli antipasti primi secondi dolci tutto bene quindi io voglio concludere perché ho promesso a tanta gente che in questo video era abbastanza sintetico quindi amici grazie per la vostra vicinanza chi mi è stato vicino proprio fisicamente o chi mi è stato vicino tramite gli auguri con whatsapp o facebook infatti ieri il cellulare squillava per biffava per i messaggi di facebook whatsapp ogni due tre minuti vabbè è così quando c'è il compleanno quindi cari amici grazie a tutti vi auguro una buona settimana un buon proseguimento di giornata e noi ci vediamo domani con un prossimo video ciao a tutti e grazie ancora mi raccomando scegliete torio come ristorante scegliete torio che buonissimo ciao